buongiorno benvenuti al mio canale questa è l'app gemini per l'intelligenza artificiale piatta da google che si può utilizzare da browser desktop andando su gemini punto google punto com questo slash app lo aggiunge automaticamente per utilizzare gemini da computer si può caricare un'immagine o parlare con il microfono ovviamente più semplicemente digitare una domanda testuale da qualche giorno è disponibile anche la chat in tempo reale con gemini da dispositivi mobili da dispositivi mobili android al momento non credo sia disponibile su iphone non c'è l'app gemini per iphone e ipad questa è l'app gemini con cui adesso si può anche intavolare una conversazione con appunto l'intelligenza artificiale e adesso vediamo come farlo effettivamente parto dal presupposto che tutti voi abbiate impostato la lingua italiana come assistente vocale quindi io apro la cartella in cui ho tutte le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale che questa scelgo appunto gemini di google ecco qua ovviamente mi saluta con il mio nome perché in questo account io ho appunto il nome in basso io posso utilizzare come vedete varie opzioni di prompt e chiamiamole così posso digitare un testo posso utilizzare la lettatura vocale toccando sul microfono posso aggiungere una immagine e adesso c'è anche questa opzione vedete questa dell'intelligenza artificiale adesso io la tocco per la prima volta e vediamo quello che succede ciao sono gemini a breve inizieremo a usare live la funzionalità che ti consente di esplorare idee o argomenti complessi semplicemente parlando ma prima di iniziare dai una rapida occhiata a queste importanti informazioni ecco qua usa live con gemini tocca il pulsante live per attivare il microfono per disattivarlo tocca il pulsante metti in attesa o termina oppure ti interrompi alcune funzionalità come le estensioni non sono ancora disponibili in live le chat vengono salvate nell'attività delle app gemini se è attivata e trattate secondo l'informativa della privacy rispetto alla privacy degli altri vado su ok ottimo diamoci da fare ecco una delle voci che ho ma ce ne sono altre tra cui scegliere scorri per ascoltarle o tocca semplicemente inizia per cominciare a parlare scorriamo le voci questa è vega ecco un'altra voce che posso usare puoi scegliermi ora e cambiare in un secondo momento nelle impostazioni non vedo l'ora di discutere con te in merito alle domande più profonde al mondo come il motivo per cui il pickleball è così popolare o forse preferiresti sentire una voce come questa davvero bella se posso dirmelo ma non ti ad esempio eccone un'altra forse posso essere la voce che ti aiuta a trovare idee rega e poi ci sono io una voce per ogni occasione e necessità spero di forse questa voce fa più al caso tuo continuerò a parlare per ancora un attimo così puoi farti un'idea migliore di come suona comunque potrei parlare così tutto il giorno provare queste voci è come provare vestiti nuovi ecco un'altra delle mie voci immaginami parlarti mentre svolgi una routine di o anche quest'altra prova prova uno due e per concludere possono parlarti usando anche la voce che stai sentendo forse sono la voce scegliere una voce è complesso ma magari anche divertente spero di essere la voce che sceglierai bene scelgo l'ira vado su inizia puoi sempre modificare la mia voce nelle impostazioni in un secondo momento ok sono qui quando vuoi e metto in attesa iniziamo hai dei consigli per dei libri da regalare a un amico a cui voglio regalare dei libri di scienza divulgativa? certo ci sono un sacco di libri di scienza divulgativa interessanti per aiutarti a scegliere però mi serve qualche informazione in più per esempio sai già di che argomento scientifico è appassionato il tuo amico? fisica, biologia, astronomia o qualcos'altro? fisica, biologia ah ok quindi ti interessa la fisica applicata alla biologia in questo caso ci sono un sacco di libri interessanti uno che viene in mente è l'ordine nascosto di Carlo Rovelli lui spiega la fisica in modo super accessibile e tocca anche l'argomento della vita e della coscienza un altro consiglio potrebbe essere la fisica della vita di Pier Giorgio o di Freddi anche qui si parla di come la fisica spiega quello che succede negli esseri viventi se invece vuoi qualcosa di più specifico dimmi qualcosa di più sui suoi interessi in biologia no basta così sei stata abbastanza esauriente secondo te qual è il miglior modo per pianificare un viaggio in Spagna in questo momento? organizzare un viaggio in Spagna è un gioco da ragazzi soprattutto adesso che le restrizioni dovute al covid sono praticamente sparite per prima cosa devi decidere quando andare la Spagna è bella tutto l'anno ma il clima cambia da zona a zona se preferisci il caldo l'estate è il periodo migliore ma tieni presente che sarà anche la stagione più affollata se invece ti piace viaggiare con meno gente in giro la primavera o l'autunno sono l'ideale poi devi scegliere le città che vuoi visitare le più famose sono Madrid, Barcellona va bene basta così se volessi organizzare bene un'intervista a un mio collega youtuber che si occupa di tecnologia quali domande dovrei porre per essere più interessante? per un'intervista ad un collega youtuber di tecnologia ci sono un sacco di domande interessanti che puoi fare per prima cosa potresti concentrarti sulla sua carriera chiedigli come ha iniziato quali sono state le sfide più grandi che ha dovuto affrontare e come ha fatto a superarle poi potresti approfondire il suo canale basta così, grazie lo sai quali sono le ultime notizie interessanti sulla tecnologia? sì, ci sono un sacco di novità interessanti nel mondo della tecnologia ad esempio l'intelligenza artificiale sta facendo passi da gigante soprattutto con le nuove tecniche di machine learning e poi ci sono gli sviluppi nel campo della realtà virtuale e aumentata che stanno aprendo nuove possibilità per il gaming, l'intrattenimento e persino la medicina vuoi che ti parli di qualcosa in particolare? no grazie, basta così figurati, fammi sapere se ti viene in mente qualcos'altro ecco, puoi spiegarmi in meno di un minuto come funziona l'intelligenza artificiale? l'intelligenza artificiale o AI è un po' come insegnarci a un computer a pensare da solo gli diamo un sacco di informazioni come immagini o testi e poi usiamo la matematica per aiutarlo a trovare schemi e regole così, piano piano, il computer impara a fare cose che sembrano intelligenti come riconoscere oggetti in una foto o addirittura tradurre da una lingua all'altra mi puoi dare un'idea su un video da proporre nel mio canale youtube che si occupa di tecnologia? hai ragione, mi sono espressa male volevo dire che potresti fare un video che spiega la scienza che sta dietro qualcosa di tecnologico che la gente usa tutti i giorni per esempio potresti spiegare come funziona il wifi o come fa il gps a localizzarci in alternativa potresti fare un video su una nuova tecnologia che sta emergendo come la realtà virtuale o l'intelligenza artificiale fammi sapere cosa ne pensi molto interessante qual è secondo te il miglior modo per affrontare lo stress? direi che il modo migliore per affrontare lo stress dipende un po' dalla persona e dalla situazione ma in generale fare attività fisica è un toccasana anche uscire all'aria aperta magari per una passeggiata o una corsa fa bene e poi se riesci a ritagliarti dei momenti di relax durante la giornata magari leggendo un libro o ascoltando della musica vedrai che ti sentirai subito meglio grazie basta così è possibile usare Gemini Live in background? valutamente si usa altre applicazioni? nel senso io posso continuare a parlare con te mentre sto usando un'altra applicazione? sì puoi usare Gemini Live in background mentre usi altre app per esempio potresti chiedermi di leggere un articolo mentre controlli le tue email o potresti farmi compagnia mentre giochi? fammi sapere se vuoi provare? no proverò un'altra volta per adesso mi basta avere sono qui quando vuoi un'idea generale su quello che sai fare e quello che puoi fare adesso chiudo ecco come vedete qui su Gemini sono state trascritte tutte le mie conversazioni con Gemini ecco qua la prima cosa che ho chiesto è stata un libro poi ho chiesto di un collega youtuber poi ho chiesto di organizzare un viaggio in Spagna vedete qui c'è tutta la trascrizione io posso anche ascoltare tutto quello che ha detto che ho detto io e che ha detto anche Gemini questo per esempio ah ok quindi ti interessa la fisica applicata alla biologia in questo caso ci sono un sacco di libri interessanti quindi viene ripetuto completamente quello che ho detto per cambiare voce se va sul live qui come posso cambiare la voce di Gemini? non ti offendere ma per scegliere un'altra voce alternativa alla tua per niente capisco che vorresti un po' di varietà purtroppo come assistente virtuale ho una sola voce ma posso darti qualche consiglio per trovare quello che cerchi ci sono diverse app e programmi che possono modificare la voce in tempo reale alcuni sono perfetti per scherzi o per divertirsi altri sono più professionali e possono cambiare completamente il tuo timbro va bene non mi ha risposto per cambiare voce ma vi faccio vedere come si fa si tocca in alto l'immagine del profilo qui quindi si va su impostazioni e c'è voce di Gemini qui vedete posso iniziare a essere la tua voce continua pure a esplorare puoi cambiare le voci in un secondo momento se ti interessa scoprire altre è bello qua se ti interessa scoprire puoi cambiare le voci in un secondo momento continua pure a esplorare finché non trovi la voce continua pure a esplorare finché non trovi la voce perfetta ecco quindi ho cambiato voce da lira a vega e questo per adesso è tutto per quanto riguarda l'assistente vocale di Gemini con cui appunto ci attrae in tempo reale la conversazione vocale che abbiamo avuto con Gemini Live da smartphone oltre a essere trascritta su Gemini nello smartphone è anche trascritta nel browser gemini google.com se infatti apriamo questa pagina se io vado qua ci sono tutte le conversazioni che ho avuto con Gemini Live vedete questa è l'ultima conversazione parte dall'inizio con dei consigli per dei libri da regalare a un amico poi si passa il mio modo per pianificare un viaggio in Spagna vedete ci sono tutte le mie domande tutte le risposte quindi che possono essere visualizzate non solo da smartphone ma anche da computer chiaramente se io vado qua sull'icona del lato parlante posso riprodurre la risposta che ho ricevuto da Gemini e questo è tutto per Gemini Live alla prossima volta grazie a tutti